Direttamente dai sull'Elde, vacanza con la squadra, Juventus-Monaco. Prognostico per questa partita, prevedo un 1-1 col passaggio della Juve. Qui cosa dicono? 1-0 in Monaco e 3-0 in Monaco. 3-1-1. Bella, bella, dai che andiamo ragazzi! Ecco le formazioni, la Juventus parte con un 3-5-2, Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Wittgenstein, Marchisio, Pirlo, Vidal, Evra, Tevez e Molata. I Monaco ci rispondono con un 4-3-3, Subasic, Fabinho, Raggi, Avdenour, Kuzawa, Kondorbyat, Tullalan, Mutigno, Silva, Carrasco e Marziale. Atto rituale provviziatorio, l'apertura della birra. La partita è iniziata! Ma il Chiellini, quel solito coglione, già molito! Che testa di cazzo, che testa di cazzo! Come la figa, posto in secondo piano durante partiti di calcio, è incredibile. Quadrato, ragazzi, li lascia tutti a sedere! Ha sbagliato partita, mi dispiace. Chiellini, parta! Sclerato, lui ero sclerato. Ah, io direi di presentare quando arriva la new happy. Cuglione sbarazzino. Cuglione sbarazzino. Signore, la palla torna ai top. E tu, e tu, ma è tono, la campiana santa. Eh, no, ma che altro sono tutti uguali. Dica a gioventini che vi agitate quando superate la metà caos. Voi vi agitate quando superate la metà classifica. Quattro e ticino minuto, un riassunto. Monaco fa la partita, la Juve lo sta... Non è nessuno. Diretto. No, vabbè, la Juve sta... Ci dovrebbe sbattare i contropiedi, Monaco non molto precisi lì davanti. Però viene così. Va bene così. 0-0, troppo poca aggressiva la Juventus. Si sta accreditando di un pareggio. E la più dice prima del tempo. Oh, ma che... Ma che rigore! Ma che rigore! Ma che rigore! Ma che rigore! Ma che grava che figlio di puttana. E solo perché Nero non gli era tanto. Oh, ma che figlio mi ha giunto. E raga... Ma che rigore! Ma che rigore, raga! Non era rigore! E' fuori dall'aria! Ma che cosa? E con l'aria ha fatto il ringo al cioccolato. Siamo in intervallo tra il primo e il secondo tempo. Ansia situa veramente di... Sperata. Sperata! Non sappiamo come faremo a fare i gol. Ormai Andeghi deve andare negli spiatori e... Cambiare un po'. Io voglio dentro per Eiro, Coma, qualcuno veloce per il controviede. Ma anche devi cercare di farli un po' tranquillizzare perché se no andiamo lontano. Siamo arrivati tutti i ragazzi sotto, che hanno paura, non riescono a giocare. Dai a Juve! Dai! Ha già devuto? Ha già devuto? Sì! Vedi che si scemo! No! Non riesce a te! Ehi! 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 Tutti che cadono! Campi praticabili! E partita da rimandare! Sì, sì! Ci ricordiamo tutti in garazza, dai, polpoglia! Non hanno faccia di gusti! Nando! Esce! Nando! E' morata! E' entrata! E' mambo! Ci sono sette minuti che saranno lunghissimi! E' bra! E' bra! Ma E' bra fa sempre il veneziano! Passala sta palla! A me tanto veneziano non sembra con quel colore! E' bra! Cosa vuole fare quando c'è l'imponente raggi si pesa? Ragazzi! Grandissimo cambio di Max Allegri! Esce Vidal! Entra! E' la verpina Perera! Tutto umano! Perera, provano ad andare via! Perera! E' forte, sì! Come dici te? Ti sopportavi di Turalane dopo 45 minuti? Sì, Turalane perché è un pazzesco! E' un pazzesco! E' un pazzesco! Questa! Oltre in tenni si vede! E poi c'è le vede i potini a casa! Ah, ecco! La vuole provare Pirro da 30 metri all'89esimo? Attenzione! Attenzione! Evita i piedini! Andreone! Traversa! Vabbè, è caduto un incrocio Andreone! Funtana! Funtana che tiro ha fatto! Ma che tiro ha fatto! Ma che tiro ha fatto Pirlo! Il portiere! Non l'avevo visto! E' Cevra! E' entra l'uomo di tutti noi! Padovin! Sempre che entra! Punizione Monaco! E c'è Buffone a caso! Ma che cazzo fai? Buffone era quasi fuori dall'aria! Infatti, non lo so io! E' finito! E' finito! E' la faccia! Funtana! Funtana!